Un attimo, un attimo, un attimo, perché tra i bruchini c'era una più bella di tutti, era lei, bruchina splendente, un applauso a bruchina splendente! E lei passeggiava e cantava, mi alma, canta, ia ia ia! E quindi bruchina splendente era la più bella di tutti, bellissima! Infatti un giorno uno dei vermi brutti, che si chiamava dragon verme, la vide da lontano e se ne innamorò subito, 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 poi la sentiva cantare, si divertiva, era proprio scombotto, però sapete che cosa pensava lui? Diceva così, ma che fai dragon verme? Che? Oddio? No! To' boing, po' boing, po' boing, po' boing, non la potrei mai avere! To' boing, po' boing, po' bu' boing, po' boing, po' boing e insomma... Tu, boong, ma vuoi fare dragon verme o no? Ok, ma lo vieni了! E quindi cercava di togliersela dalla mente, ma un giorno, grazie a Dio, un giorno lui era da una parte lei era dall'altra però lui l'aveva vista e non riusciva a scordarsi e lui la guardava così e la guardava e lei lavorava e cogliava i petali dei fiorellini e faceva le coronzine e lavorava di qua e lavorava di là a un certo punto però si sentì un rumore enorme grandissimo e allora Dragunferme si preoccupò e in corso incontro a bruchina per dire oh mio dio che cosa era successo lui correva da una parte e bruchina dall'altra a un certo punto si scontrarono testa a testa cogozza a cogozza aprirono gli occhi e si trovarono occhi negli occhi uno di fronte all'altro e allora Dragunferme faceva così oh mio dio adesso si apro la bocca questa mi sfiale per la buzza dell'olito è meglio come sto zetto e il bruchino invece diceva guarda quanto è carino è venuto incontro a me per salvarmi oh mio dio e allora prese lo bacio e vissero tutti felici e ma no ma vi sembra che la storia finisce così è impossibile quello era un verme è impossibile che il verme subito gli piacciono i fiori è possibile giusto? è possibile è possibile perché? ecco Muzzolet Muzzolet perché? scusate 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 è possibile perché ai verbi abbiamo detto che piaceva il sangue le mele marce le uova marce quelli strisciavano nel fango e nella cacca mamma mia schifosi brutti avviscini bravo e allora che cosa fece è più che una splendente cercò di dargli dei fiori buoni da mangiare e lui piano piano mangiava 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 e si colorava pure lui diventava coloraggio anche tra con verme e piano piano l'alito non gli puzzava più non gli puzzava più però sapete qual era il problema? c'erano degli amici di tra con verme che erano gelosi di tutto il verme qui e dicevano ma perca lui si deve divertire? perca lui? e allora ogni volta che passavano ruchina e dragon verde oh che si fanno le mamma mia questi ruttavano e poi delle scoreggia perché dicevano questi due non devono stare insieme però però no non vomitavo però dragon verme a dragon verme non importava perché a lui ci teneva a bruchina splendente eh si quello si era proprio innamorato allora scusate ma secondo voi lui ce la fa diventare un bruco o no? c'hanno affari? no bravo no c'hanno di affari? scusate non ho ancora studiato calabrese sono diversi e allora se ce la può fare lo vogliamo aiutare a diventare un bruco? volete giocare? sì o no? e allora dobbiamo no no il microfono è mio volete giocare? e allora possiamo dare inizio ai giochi però alla fine non me ne dovete andare perché alla fine ci sarà un premio per tutti quanti qua e quindi c'è qualcuno con Agostina che non vedo che cercherà di aiutare il verme a mangiare dei fiorellini bianchi che fanno pop 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 quando li cucini fanno così pop 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 che sono? pop le macchine non possono passare? e poi invece con vermi aiuteremo il verme a bere tanta acqua pulita e invece con Franceschina rinfrescheremo l'alito di dragonverme con le colia e invece con Anna Maria Anna Maria aiuteremo il verme a giocare nella luce non al buio e invece con bruchina splendente Angela aiuteremo il verme a colorarsi con una cosa che si mangia ci si lava da faccia e si appiccica i semi in faccia che è? le patate le patate che cos'è di un applauso bruchino splendente mi vuole uccidere che cos'è di Piano, piano! Piano, piano! Piano, piano! Piano, piano che scivo! Piano, piano! Su, su me! Un'altra voce! Un'altra voce! Un'altra voce! E' un'altra voce! O' ci vedo! La voce! In un'altra voce! Abonnez-vous! Mi chiede anche il secolo! Un animale! Cosa vuoi? Stavamo! Io non ce l'ho fatto! Bravo! Io non ce l'ho fatto! Non ce l'ho fatto! Sarò che stai a mettere! Hai visto! Vai veniva! Ma è dritto, ma è dritto! Grazie mille!